Buongiorno a tutti, siamo in uno degli stabilimenti di Nero Giardini con Enrico, il patron di questa grandissima azienda italiana. Oggi abbiamo incontrato centinaia di imprenditori, adesso abbiamo finito l'incontro, come potete vedere, c'è un buffet in questo momento. Questo è uno degli stabilimenti produttivi più avvenieristici che ci sono in Italia. Siamo nel centro logistico interamente robotizzato. Enrico e Nero Giardini con tutta la sua famiglia producono valore in questo paese. Mi ha aperto le porte della sua azienda, mi ha fatto incontrare tanti suoi colleghi dell'indotto, tante persone che lavorano insieme a lui, tanti imprenditori, tante imprese che danno lavoro. Nelle stesse ore in cui noi qui stavamo parlando di abolire gli studi di settore, di abolire lo split payment, lo spesometro, il redditometro, di fare investimenti per abbassare il costo del lavoro. Silvio Berlusconi diceva che gli imprenditori italiani odiano il Movimento 5 Stelle. A me non sembra. Tentato troppo dal fare questa diretta perché la smentita arriva in diretta a Silvio Berlusconi da centinaia di imprenditori che sono qui alla Nero Giardini ad ascoltare il programma del Movimento. Come ce n'erano centinaia a Firenze l'altra sera, avete visto, abbiamo pubblicato anche un articolo e ce ne saranno decine candidate nei collegi uninominali per il Movimento 5 Stelle. Ciao a tutti!